Sono 255 i comuni dell'Emilia-Romagna e il 75% del totale i cui residenti domenica 25 maggio vengono chiamati al voto per rinnovare il primo cittadino e relativi consigli comunali. Contestualmente tutti gli elettori dei 340 comuni Emiliano-Romagnoli andranno alle urne per eleggere il nuovo Parlamento europeo. I seggi sono aperti nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23. Lo scrutinio avverrà subito dopo la chiusura delle urne per le elezioni europee, mentre per le comunali lo spoglio si svolgerà a partire dalle 14 di lunedì 26 maggio. Questi i comuni della provincia chiamati al voto per le comunali, Bellari-Egemarina, Riccione, Sant'Arcangelo, Poggio-Torriana per la prima volta dopo la fusione di Poggio-Berni e Torriana. Votano per la prima volta le comunali in Emilia-Romagna dopo essersi distaccati dalle Marche gli elettori di Casteldelci, Maiolo, San Leo, Sant'Agata-Feltri e Talamello. Fuori provincia anche Savignano, Surbicone e Cervia andranno alle urne. Tutte le informazioni sul sito elezioni.regione.emilia-romagna.it Spazio realizzato in collaborazione tra Giunta regionale e Assemblea legislativa.